Ennesima lettera, altra confusione. Il riferimento va alla nuova missiva inviata ai fedeli, datata 14 febbraio, ma divulgata solo oggi dai parroci dell'unità pastorale di Praia Mare. Infatti in quella precedente del 13 febbraio veniva condannato in maniera unanime quanto accaduto al santuario della Madonna della Grotta, diventato meta dell'iniziativa Io Volevo Farli Qui. Idea nata nel 2015 attraverso la quale Francesco Adduci, parrucchiere di Santa Maria del Cedro, ha iniziato a promuovere le bellezze del territorio tagliando i capelli nei luoghi caratteristici della riviera dei Cedri. Iniziativa interessante purtroppo finita nel mezzo di una guerra che va avanti da mesi. Nell'ultima missiva viene spiegato che gli autori del progetto non avevano alcuna intenzione di violare la religiosità del luogo. Essi, continuano i parroci, hanno manifestato il loro disappunto nell'incontro avuto con il vescovo. Nel colloquio il vescovo ha colto l'occasione per ribadire come sia suo precipuo dovere vigilare ed eventualmente purificare quelle forme di religiosità popolare che non sono consone alle direttive della Chiesa, quella di Papa Francesco. Parole che hanno già fatto infuriare qualche fedele anche perché non si capisce se alla fine il gesto è stato condannato, perdonato o cos'altro. Soprattutto non si comprende chi ha autorizzato la realizzazione del video. Altro aspetti, il comitato pro santuario Madonna della Grotta ha dato avvio a una raccolta firme affinché tutto torni come un tempo, ossia un santuario unito alla Chiesa Sacro Cuore retto da un unico parroco. Fatto sta che l'unità pastorale di Praia Mare chiede ai fedeli di seguire le direttive della Chiesa e di attuarle senza indugio. I primi che dovrebbero seguirle sono i sacerdoti chiamati a dare testimonianza credibile del servizio pastorale disinteressato e fedele di una devozione alla Madonna. Perciò, continua la lettera, non può essere condivisa alcun atteggiamento ignobile, lo è chi si serve dell'anonimato per scrivere, né scandaloso. Auguriamo, conclude la missiva ai nostri cristiani, di saper leggere i segni dei tempi, seguendo la sana dottrina che ci è presentata dal Magistero della Chiesa, non andando dietro a falsi profeti. Ma chi sono gli anonimi scribi? Fatto sta che la raccolta firme continua e quelli del comitato hanno già affilato le penne per rispondere a questa missiva. Inoltre, qualcuno si chiede quale sana dottrina bisogna seguire, dato che in questa sorta di guerra santa che va avanti da mesi, nessuno riesce a vederci purezza di intenti. Grazie a tutti.